Come ti è sembrata la gestione di un attacco così ostico come quello del Bari e se ritieni che il risultato finale dispecchi la prestazione della squadra? Sapevamo di affrontare giocatori importanti, anche i giocatori che hanno fatto la Serie A. Penso comunque che la squadra ha difeso bene contro questi giocatori. Per quanto riguarda il risultato c'è un po' di rammarico perché penso abbia gestito bene la partita. Sono stati due episodi, sono stati bravi loro a finalizzare bene. Episodi sfortunati anche da parte nostra, soprattutto in particolare il palo colpito da Vallocchi. Sì, perché magari entra quel gol e cambia la partita. Però siamo soddisfatti dalla prestazione e ci fa ben sperare per domenica. Giovanni Donnarumma, un approccio importante in questa difficile partita ma alla fine però si esce a sconfitti. Sì, come detto prima c'è rammarico perché abbiamo fatto una buona gara, sia a livello difensivo o di squadra, anche a livello di possesso palla. A lunghi tratti della partita abbiamo gestito bene il pallone, però peccato perché non abbiamo finalizzato a differenza del Bari. Non c'è tempo per pensarci su, si torna subito in campo, trasferta lunga, si va a Palermo. Sì, affrontiamo una squadra che vuole fare bene e che ultimamente magari non ha fatto benissimo. Quindi sappiamo che non sarà una partita facile, però lavoreremo in settimana per arrivare prontissimi e fare risultati a Palermo. Grazie Asma. Prego.